Spero che non sia solo di riflessione ma soprattutto una marcia che esprime lo sdegno di una città nei confronti di una vicenda che poteva avere ben altre soluzioni e in tempi altri, non in quelli con cui ci stiamo confrontando. Il tema non è solo il recupero di un elemento identitario della nostra città, qual è la cattedrale, ma il tema più coggente in questo momento è il tema del pendio e il tema della pubblica incolumità. Il tema col quale continueremo a fare i conti in questi prossimi giorni è che la città si indigni in questo modo, scenda in piazza in maniera così ordinata, serve a chi ha responsabilità di governo, a chi le avrà, di non commettere gli errori che in questi anni purtroppo sono stati commessi in un gioco stucchevole al rimpiattino.